Buonasera da SamassiWeb, oggi vi mostriamo le luci di adobe natalizi, vedete stiamo arrivando da via Salluri, ecco si nota la prima scritta buone feste, piano piano ci stiamo avvicinando, il video sta uscendo un po' giallino però è rossa, vedete qua. Buone feste, vi spiego un po' che magari non si capisce mai dal video, qua stiamo passando vicino i passaggi a livello, vedete qua la svolta della stazione, la via principale, sembra un video di lucigno, questo è il pezzo del ponte, vedete questo è il pezzo di via Roma, queste luci, questi fili pendenti, un gran boulevard, vedete qua, il pezzo della via principale, svoltiamo qua, qua svoltiamo, vedete qua la nostra amata piazza, noi siamo alla rotatoria, vedete qua il pezzo, qua inizia via Cagliari, via Repubblica, qua svoltiamo poco prima della banca, facciamo un po' di pubblicità all'officina del nostro amico Sandro Mede, qua svoltiamo qui il Mocando, vedete qua, quest'anno ho addobbato anche questo tratto di strada, non è male, vedete qua, siamo vicino alla piazza, la nuova piazza, si la piazza tiene a messa a Mazzetti, e qua torniamo verso i distributori di Ugo, ecco fatto, è finito il turno, ve lo facciamo vedere all'inverso, l'autista oggi è generoso, autista e DJ, ecco stiamo risalendo per il ponte, vedete qua, abbastanza trafficato, sembra veramente di essere una puntata di Lucignolo, il tratto del ponte, qua con l'attività, la sfiziosa, un bel colpo doppio però, chiudiamo qua dalla stazione, buona serata a tutti, dettaglio sulla luce facciamo, con le stelline, buona serata a tutti, la Samassi Web ovviamente,